Tutto rinviato in autunno. Il processo d'appello per il crack di Banca Etruria, in particolare il filone della bancarotta, ha subito questa mattina un altro rinvio. La Corte d'Appello di Firenze ha rinviato il procedimento al prossimo 16 di ottobre. Un lasso di tempo, dunque 5 mesi, che pone di fronte il rischio della prescrizione, soprattutto per il reato di bancarotta semplice. La sentenza di primo grado fu pronunciata il 1 ottobre 2021. Un solo condannato, Alberto Rigotti, pena 6 anni, tutti gli altri imputati assolti. Il ricorso avanzato dalla Procura di Arezzo e dall'unico condannato è stato accolto, ma i tempi per la partenza del processo si allungano e di parecchio. Inutile dire che i risparmiatori, che si sono costituiti parte civile nel processo, sono rimasti increduli e sbigottiti. Circa la metà degli imputati sono infatti accusati di bancarotta semplice, reato questo che alcuni giorni dopo la data dell'udienza, il 16 ottobre 2023, sarà estinto.